Ciao! Come vi avevo promesso, nel video di qualche settimana fa è giunto il momento di parlare di un drama cinese capolavoro dei capolavori. Sto parlando di The Untamed, l'indomito in italiano, forse un po' più facile da pronunciare. Questo drama cinese è al primo posto per me. Tra tutti quelli che ho visto cinesi, per me non esiste niente come l'indomito. Quello che farò oggi in questo video è spingervi a guardarlo. L'indomito è un drama cinese del 2019 ed è composto da 50 episodi, ma non dovete assolutamente spaventarvi per questo numero, perché la storia è talmente speciale, talmente spettacolare, che gli episodi vorreste che fossero infiniti. Si arriva a un certo punto della storia che il desiderio è che gli episodi raddoppiassero, triplicassero, che non abbiano mai fine. Veramente è un capolavoro. Perché voglio parlarvi dell'indomito? Abbiamo affrontato l'argomento dei BL, ossia i boys love, e vi avevo parlato di questo indomito, accennandolo, proprio perché dovrebbe essere un BL cinese. Ma come ben sappiamo in Cina le attuali leggi non permettono la trasposizione cinematografica di amore tra uomini. Gli autori però di questo drama sono riusciti attraverso la bravura dei protagonisti e attraverso tantissimi simbolismi a trasmettere comunque a noi quello che è l'amore tra i due protagonisti, di cui vi parlerò piano piano. Questo drama però viene classificato come bromance, appunto un rapporto di fratellanza, proprio perché non potevano classificarlo come boys love. I due protagonisti, Xiao Zhan e Wang Ibo, sono stati di una bravura talmente spettacolare da riuscire con solo gli sguardi, i movimenti del corpo, i sorrisi, tranne che di Xiao Zhan, a trasmettere tutto l'amore e il profondo legame tra di loro. Dell'indomito potrei parlare veramente per ore, quindi cercherò un attimo di stringere dandovi più informazioni possibili in breve termine. L'indomito è un misto tra il genere Xanxia e Vuxia perché abbiamo comunque arti marziali miste con esseri dai poteri sopranaturali, di magia, quindi i due generi si fondono tra loro. L'indomito è la trasposizione cinematografica della novel Mo Dao Zushi che, a differenza del drama, è veramente molto molto spinta. Parliamo veramente di scene molto hot tra i due protagonisti maschili. Di questo nel drama non si vede assolutamente niente, il che un po' fa soffrire, però dobbiamo accontentarci perché comunque gli autori, come dicevo, hanno trasmesso benissimo l'amore tra i due protagonisti. Pensate che Xiao Zhan e Wang Ibo sono stati talmente bravi che purtroppo dopo la trasmissione di questo drama hanno ricevuto il divieto di lavorare ancora insieme. Non posso, non voglio approfondire questa faccenda perché è piuttosto articolata e non vorrei dare informazioni sbagliate, però purtroppo la loro amicizia è stata vietata, non possono più lavorare insieme e questo è veramente un gran peccato. Ultimamente c'è anche stata la Weibo Night a cui hanno partecipato entrambi, non si sono neanche salutati. Purtroppo succede anche questo nell'industria cinematografica. Torniamo all'Indomito. Allora, l'Indomito parla di, vediamo di accennare un po' appunto la trama, parla del maestro di spada Wei Wuxian che nella prima scena vediamo precipitare giù da una rupe con Lan Zhan che piange perché non riesce a salvarlo. A questo punto, dopo che abbiamo visto Wei Wuxian morire, si farà un salto temporale di 16 anni in avanti e vediamo Wei Wuxian reincarnarsi nel corpo di un giovane. Nessuno sa di chi si tratta realmente e così lui ricomincia a vivere la sua vita con indosso una maschera per non farsi riconoscere. Però un giorno succederà che incontrerà Lan Zhan, quindi quell'amico che non è riuscito a salvarlo dalla morte. A questo punto la storia ritorna di nuovo indietro di circa 20 anni in modo da farci vedere come i due si sono conosciuti. Wei Wuxian e Lan Zhan iniziano la loro storia, la loro amicizia quando hanno solo 16 anni all'interno di un'accademia di arte della spada. Lan Zhan è freddo e distaccato, rispettoso delle regole, mentre Wei Wuxian è sempre sorridente, gli piace scherzare. Hanno due caratteri completamente diversi. Insieme si ritroveranno ad affrontare i clan Wen, un clan cattivo che vuole dominare il mondo. Ed è così che lentamente il loro rapporto distante diventerà sempre più stretto, diventando inseparabili. Succederà però un giorno che Wei Wuxian sparirà nel nulla dopo essere stato catturato dal clan Wen. Dopo parecchi mesi, quando Wei Wuxian ritorna, si scoprirà che ha cambiato totalmente strada, divenendo un maestro dell'arte demoniaca, quindi completamente opposto rispetto a quello che era prima e a quello che è Lan Zhan. Da questo punto in poi Lan Zhan farà di tutto per riuscire a proteggere la sua anima gemella, mettendosi spesso contro tutti perché appunto lui rispettoso delle regole si ritroverà a dover difendere uno che controlla l'arte demoniaca. Questa parte di storia servirà ad arrivare al punto in cui Wei Wuxian muore, quindi la scena dell'inizio. Arriveremo appunto a quel momento lì per poi proseguire la storia 16 anni dopo, quindi dove l'avevamo lasciata all'inizio. Alla gente purtroppo tende a confondersi un po' in questo punto proprio per i salti temporali, ma io spero di avervi un attimo chiarito come funziona. Come vi dicevo non voglio andare avanti nella storia, nella trama perché è tutta da scoprire, è meravigliosa, quindi dirvi di più secondo me è togliervi un po' la sorpresa. Come vi dicevo gli autori hanno infilato in questo dramma tanti simbolismi per cercare di trasmettere a noi l'amore tra i due protagonisti. Ci sono i conigli che rappresentano un dio cinese che è appunto dell'omosessualità maschile, c'è il nastro di Lanzan che ha qui sulla fronte che lui dice che solo il suo amore, la sua famiglia possono toccarlo e infatti lui lo lascia toccare solo a Wei Wuxian proprio per trasmettere il profondo legame che c'è tra di loro. Questi e tanti altri sono i simbolismi che potete trovare sul mio TikTok dove li ho approfonditi uno per uno, il mio TikTok Jesse Vernola e comunque veramente Dian Tamed è un capolavoro tra i capolavori ed è anche uno dei dramma più visti al mondo sulla piattaforma Tencent dove è uscito in Cina è stato visto oltre 10 miliardi di volte, il dramma più visto in assoluto e se tu che mi stai guardando non l'hai visto vedi di recuperarlo su Viki perché è spettacolare su Viki e su Rama Oriental anche. Detto ciò, ciao!